ragazzi ma voi avete visti i video? si vedi! io non so visto i video a stare cercate davvero ma il prossimo chi lo fa? lo faccio io lo faccio io! ragazzi ma posso farlo anch'io un video? no no! perché? perché scomma fucchetto non serve proprio comunque ho detto che lo faccio io, lo faccio io, lo faccio io!